Abbiamo la gioia di avere con noi questa sera, in questi giorni, proprio perché lui ha detto subito il suo sì per incontrarci. Per questi pescatori avviene tra le parche il lago, le reti e i garzoni, cioè l'incontro con il Signore avviene nella ordinarietà della vita. Anche questo è un aspetto, io credo, che dovremmo molto valorizzare e chiederebbe di essere molto valorizzato da una spiritualità laicale, soprattutto da una spiritualità come quella dell'Azione Cattolica. Il luogo di Dio è la vita. Questo episodio non è un episodio concluso. Non è un episodio che riguarda Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Questo episodio rimane aperto. Questo episodio si ripeterà molte volte nel cammino della Chiesa, molte volte nel cammino dei discepoli del Signore. Questo episodio riguarda te. La tua vita, la tua persona, il tuo nome attende di essere pronunciato in questo schema di racconto. Certo che è Pietro e Andrea, certo che è Giacomo e Giovanni, ma questa esperienza dell'incontro con Cristo, dell'incontro con il Signore che cambia la vita, che trasforma la vita della gente e fa della vita delle persone un seguire lui, un andare dietro a lui, un incamminarsi sul percorso del Vangelo. Questo riguarda te. Il racconto ha il tuo nome. Il racconto attende di ricevere il tuo nome. Attende di essere la narrazione della tua vita, della tua vicenda. Nel cammino dietro al Signore. Il racconto del tuo diventare ed essere il suo discepolo. Grazie.